Sono oramai due settimane che la protezione civile regionale è impegnata in Emilia con il secondo campo che ha allestito a San Prospero di Modena. Siamo riandati a vedere questa tendopoli che ora ospita anche gli uffici comunali di San Prospero, visto che è stato dichiarato inagibile il municipio stesso. Noi ci siamo trasferiti qui in questa sede che è l'attuale biblioteca che ci ospita in modo dignitoso. Il Comune è stato reso inagibile in quanto ha dei cedimenti dati proprio dalle scorse e di conseguenza l'abbiamo reso inagibile in attesa di sistemazione. Adesso dobbiamo valutare con i tecnici come intervenire e in che modo intervenire. Gli uffici privati sono notevoli, noi speravamo che fossero molto molto meno da vedere così girando per il nostro Paese. Infatti abbiamo cinque squadre che escono tutti i giorni dal mattino all'alba e entrano alla sera, che fanno le valutazioni, vanno a fare le valutazioni degli edifici e tutti i giorni firmo delle quantità immense di ordinanze di inagibilità dei fabbricati. In questo momento dire che sono 700, sono 800, noi pensavamo molto 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 meno. Intanto la Tendopoli continua a crescere e continua ad aggiungere dall'Umbria nuove migliorie per affrontare al meglio l'estate che sta arrivando. Attualmente abbiamo installato circa 44 tende e dico circa perché in pratica installiamo tende nel momento in cui il comune, quindi nella persona del vice sindaco che è il coordinatore del centro operativo comunale, ci dice la necessità di persone da alloggiare all'interno della Tendopoli. In questo momento abbiamo 44, praticamente tutte abitate, elettrificate e stiamo predisponendo l'installazione dei condizionatori e poi probabilmente il montaggio degli ombreggianti perché qui la temperatura sta crescendo abbastanza velocemente. Oltre alla temperatura elevata c'è anche il problema umidità che è molto particolare. Io devo solo ringraziare la regione Umbra e tutti i componenti della protezione civile dei comuni che compongono questa protezione civile regionale Umbra che è stata una cosa meravigliosa. Tanto è che ho fatto una lettera e ho inviato il presidente della giunta regionale Umbra di ringraziamento e non soltanto di ringraziamento perché questi si danno da fare ma anche proprio perché questi con la loro esperienza sono stati di un valore eccezionale. Hanno calato sulla nostra realtà, diciamo, un'esperienza e una cultura molto positiva ai nostri concittadini che non ho parole di ringraziamento. Grazie. Per quello che riguarda invece la gestione del campo a livello di assistenza alla popolazione siamo riusciti a far integrare abbastanza bene, crediamo, insieme al Comune, gli ospiti della reaccoglienza, facendoli lavorare attivamente in maniera tale da riattivare un pochino una certa socialità, una convivenza attiva fra di loro e perciò siamo in pratica in una fase abbastanza, diciamo, di prima partenza, di prima emergenza, però ben avviata. Alcuni esempi sono la cucina, come riescono sia i, ad esempio, i musulmani, le persone di religione appunto musulmana ad integrarsi insieme ai cuochi, diciamo, con cucina tradizionale italiana, perciò si fanno cucine sia per le loro esigenze che per le altre esigenze. In questo modo si riesce a convivere in maniera veramente ottima e questo ovvia a varie discussioni che in queste situazioni piccole cose possono diventare problemi molto importanti. La vita qui nel campo si svolge sempre pensando all'abitazione che non è agibile e pensando anche al posto di lavoro. Noi abbiamo diverse strutture produttive che hanno bisogno di essere rimesse in sicurezza e occorre molto tempo, spero di no, ecco, che non occorra molto tempo per essere rimesse in sicurezza e che il lavoro possa riprendere il più presto possibile, anche perché togliamo il pensiero, la preoccupazione, la paura e il panico del terremoto alle nostre persone. Allora qui abbiamo circa 350-380 posti tende, però molti sono anche accampati davanti alle loro case con mezzi di fortuna, tende, roulotte, casette di legno, che da giardino, ecco, e che vengono ospitati perché appunto non riescono ad abbandonare la loro abitazione anche se è inagibile per diversi motivi e che giustamente io ritengo che sia, insomma, gli do ragione, do ragione a questi. E' immensa questa cosa, come ho detto prima pensavo che fosse un numero molto inferiore, invece vedo che man mano che andiamo avanti, che andiamo nelle valutazioni più approfondite, questi aumentano, aumentano.